Bella ragazzi, qua è Ghiotto, ben ritrovati ieri giorno di pausa inconsueto su YouTube appunto e se mi vedete con la felpa è perché sono stato un po' influenzato, quindi non sono pazzo che con 30-35 gradi sto con la felpa nera tra l'altro ma vabbè comunque se mi vedete mi vedete anche direi abbastanza bene no? quindi tutto a posto e le notizie di oggi sono da commentare assolutamente perché non è ufficiale io ve lo dico mettiamo un like e non perdiamo l'abitudine iscriviamoci al canale siamo arrivati a 16.000 iscritti ma non fermiamoci e stavo dicendo non c'è ancora nero su bianco la firma ma Radu dovrebbe rinnovare quindi rimanere alla Lazio per due anni e mi vedete no? non proprio entusiasta come è l'ambiente laziale in questo periodo perché dal lato romantico ve ne ho parlato anche nei scorsi video nelle scorse settimane sono contento perché Radu è il giocatore con più presenze nella storia della Lazio quest'anno ha superato Giuseppe Favalli quindi mi dispiacerebbe fosse andato all'Inter vederlo con un'altra casacca perché lui è un giocatore che ha sempre dimostrato grande amore veramente un amore infinito e alla Lazio addirittura in parte è criticato perché lui spesso ha rinunciato ad andare in nazionale che sarebbe stato l'idolo comunque l'uomo più importante della nazionale romena per concentrarsi a giocare con la nostra maglia quindi questa è proprio la cosa principale no? non potevo fare esempio migliore per dirvi che Stefan ama i colori bianco celesti è ovvio che lui a 35 anni ha dovuto fare delle valutazioni è qui che sono poi sorti i dubbi perché lui si trova in scadenza il prossimo 30 giugno se la Lazio gli proponeva un anno ma l'Inter invece gli proponeva due tra l'altro andare a Milano non si sta male come città ritroverebbe Inzaghi l'Inter è una squadra comunque forte quindi è normale che tu l'ultimo contratto grande della tua carriera devi fare delle valutazioni io l'avevo detto è solo una questione di durata se noi gli offrivamo un anno e l'Inter gli offriva due e Radu avrebbe vacillato è chiaro però la priorità lui l'ha sempre detto l'ha data alla Lazio quindi rimane qui lato romantico siamo contenti tutto a posto però lato diciamo tecnico tattico di campo che poi secondo me è quello più importante sono un po' meno contento sinceramente rinnovare per due anni due anni sono tanti un giocatore che ne ha 35 quest'anno ragazzi non so se è un'operazione molto intelligente tra l'altro col modulo nuovo di Sarri la difesa 4 è vero che sembra che Sarri Radu non li dispiaccia perché magari un senatore dice fa spogliatoio no questa famosa frase fatta però nella difesa 4 Radu non brilla assolutamente perché sono anni che gioca a 3 poi non è né un terzino anche perché a 35 anni non puoi avere la gamba di fare il terzino come magari l'aveva quando arrivò alla Lazio né un difensore centrale perché Radu non è un marcatore assolutamente nella difesa 3 pur non essendo un fenomeno in questi anni ha sempre fatto bene vi dirò di più la scorsa stagione appena passata Radu con le sue difficoltà con le difficoltà in generale della Lazio del reparto difensivo è stato come rendimento se non il migliore comunque uno dei meno peggio sicuramente non brillando non è un fenomeno però ha sempre fatto il suo però ho qualche dubbio ecco io preferirei far crescere qualche giovane ad esempio è arrivato Kamenovic sappiamo 3 milioni ve ne ho parlato negli scorsi contenuti se è bravo se si è puntato veramente io punterei a far giocare lui non come titolare però a farlo integrare è inutile continuare a far giocare magari Radu o magari la prima riserva che sia Radu è meglio che la prima riserva sia un giovane perché noi dobbiamo guardare avanti non guardare indietro quindi va bene lato romantico ma bisogna pensare al campo che alla fine è quello più importante quindi io parlo adesso perché poi so che magari quando ci ritroveremo in difficoltà in difesa Radu magari non non sarà più all'altezza avrà qualche problema fisico usciranno della gente che dirà e non dovevamo rinnovare a Radu quindi io parlo prima rinnovare un anno ci stava due anni sinceramente ecco ho qualche perplessità però diciamo che è una scelta che è condivisibile mettiamola così ok poi altre operazioni diciamo quasi palla in entrata nulla di fatto nulla di vero perché avete visto Isai che alla gazzetta lo dava già ufficiale invece alla fine per ora non c'è nulla di concreto si parla di Kostic anche qua trattative non ce ne sono un giocatore veramente forte questo qua se ne parlava in ottica Inter diciamo che è molto adatto a giocare nel 3-5-2 Kostic quinto a sinistra però quando uno è forte può giocare anche a quattro volendo potrebbe giocare anche nei tre davanti se proprio andiamo a esagerare perché quest'anno nell'Eintraic che è una squadra importante conta 30 presenze e 4 gol e 17 assist cioè quindi praticamente è entrato a far parte a partecipare a 21 gol in 30 partite quindi se andiamo a vedere praticamente un attaccante Filippi Kostic pur giocando da terzino mi piace classe 92 giocatore serbo esperto il suo agente a ramadani lo stesso di Sarri quindi magari ci potrebbe essere anche un buoni rapporti costa tanto è però transfer market dice 35 milioni metti anche costi 25 ma sono tanti per le casse della Lazio quindi si dovrà magari cedere dicono cedere Correa per arrivare a Kostic anche se poi sono giocatori di ruoli diversi però noi di un terzino sinistro abbiamo vitale bisogno perché di là c'è Lazzari c'è Marusic che vabbè lui quest'anno ha giocato a sinistra teoricamente destro che anche loro dovranno essere poi testati a sinistra come detto si rinnoviamo Radu però di un terzino c'è bisogno quindi o Isai o Kostic beh Kostic sarebbe veramente un un grande colpo quindi vediamo sono previsti incontri ma al momento non c'è nulla di di concreto quindi io ve lo dico solo per informazione niente ragazzi like al video iscrivetevi al canale seguitemi su instagram ci vediamo poi penso già stasera con il post partita della d'Inghilterra Scozia ok ciao